Se sei entrato su questo canale, se hai cliccato su questo video, vuol dire che ti piace l'ordine o almeno provi di essere più ordinato possibile. Se è così, io ti saluto e benvenuti sul mio canale. Chi ha la casa sempre ordinata, credetemi, non è perché sono più bravi di voi, semplicemente hanno delle abitudini. E io oggi con voi voglio condividere quelle abitudini che aiuterà la vostra casa di essere sempre ordinata. Per la prima cosa che facciamo, facciamo il letto. E se noi scegliamo un bel copriletto con dei bei cuscini decorativi per arrivare al risultato finale che ci piace, di conseguenza ti viene la voglia di fare il letto. Per cui il letto fatto e già la stanza da letto si presenta molto molto meglio. La stessa cosa vale per i divani. Basta tre secondi per aggiustare un po' i cuscini, la coperta che abbiamo per guardare la tv e già la nostra stanza, il nostro salotto si presenta molto molto ordinato. Ogni cosa al suo posto, basta tre secondi per aggiustare l'asciugamano dal bagno, metterlo al suo posto e già il nostro bagno si presenta molto molto ordinato. La stessa cosa vale per gli oggetti buttati per la casa un po' di qua, un po' di là. Io prendo questa cesta, accumulo tutto qua dentro, poi se ho tempo li metto a suo posto, intendo, sulle altre stanze, no? Invece se non ho tempo intanto lo lascio così e poi quando ho tempo sistemo tutto. I giocatori dei bambini. Il bambino va educato da piccolo, lui deve essere ordinato da piccolo, per cui appena finito di giocare si mette tutto nella sua stanza, nella sua scatola, scusate, e si mette tutto a suo posto. Buttiamo scontrini, biglietti, foli, documenti, quello che non ci serve. Un'altra cosa, io qua all'entrata ho questo scatolone e qua io butto tutto quello che non mi serve, giocattoli, vestiti, scarpe. Quando si riempie questo scatolone, allora o lo ridiamo a qualcuno o si va a buttare di conseguenza. Eliminiamo il punto della casa dove buttiamo le chiave, scontrini, per pagare le luci e bollette, tutto quanto. E diamo il posto giusto a ogni cosa. Lì ho messo tutte le bollette, qua ho messo tutti gli oggetti piccoli, in un altro scatolone mettiamo le chiavi. In casa mia, ecco, questo punto qua si buttava tutto qua dentro, invece sopra. Invece io ho messo quel fiori là, ho messo la scatola con le chiavi così loro non hanno spazio. Un'altra cosa, mettiamo tutto in verticale, coperchi, vestiti. Se noi mettiamo tutto in verticale anche in contenitore è molto più facile che noi troviamo tutto quello che cerchiamo e non scombusoliamo i cassetoni, gli armadi, tutta la casa. Vedete anche qua, se noi li abbiamo messi tutti su un vassoi, lo spostiamo, facciamo presto a lavare, a pulire, per cui si fa molto molto più presto. Ecco, spostiamo tutto, si tratta di pochi pochi secondi e già la nostra cucina si presenta bene. Anche qua, il piano di lavoro deve essere sempre libero. Portiamo tutto, se abbiamo fatto un biscotto o qualcosa, tutto al suo posto. E quando abbiamo il piano di lavoro libero, la nostra cucina è tutta bella organizzata. Qua invece sto preparando un kit, mi metto tutto quello che mi serve. Per lavare le finestre, guanti, una spugnetta in microfibra. Ecco, già avendo una spugna in microfibra dietro di noi, facciamo presto ad asciugare, a fare tutto. Ad esempio, se magari ci facciamo la doccia, io cosa faccio? Mi ho questa cesta vicino a me, è tutto sotto mano, per cui ti viene anche più facile a pulire. Basta avere questa microfibra, passiamo veloce, quando è ancora tutto umido, quando è ancora bagnato, e rimane tutto pulito. Qua, dopo la doccia, basta due secondi e la nostra doccia rimane senza schizzi di acqua, e così evitiamo anche il calcare e tutto. Vedete, mi è bastato veramente pochissimo tempo per lasciare tutto ordinato. Facciamo più spesso le lavatricie, questo ci aiuterà ad eliminare i brutti odori nelle nostre case. Dividiamo subito i vestiti e i pani, bianco con bianco, scuri con scuri. Questo ci aiuterà a risparmiare il tempo, e ogni volta non dobbiamo cercare lì a separare le cose. Quando il stendino è già asciutto, mettiamo tutto a suo posto. Non aspettare che ti accumuli due o tre lavatrici, che dopo prendo polvere e tutto. Almeno una volta a settimana laviamo le ciabatte di casa. Le laviamo perché chi ha i tappeti bianchi sa benissimo che si sporcano molto velocemente. Invece se le nostre ciabatte sono pulite, evitiamo che si sporchi i tappeti. Per quanto riguarda l'immunizia, guardate come faccio io. Metto due o tre sacchetti già pronti qua, così quando si è riempito, prendiamo e sotto ci rimane un altro. E se magari è caduta qualche goccia dal primo sacchetto, l'altro lo assorbe e non si sporca il contenitore, diciamo. Qua ho messo un po' di bicarbonato, questo aiuta per eliminare gli odori e anche fa dell'assorbente, dell'umidità. Mettiamo due o tre goccetti dell'essenza e ecco qua, anche qua abbiamo tutto ordinato. Svuotare sempre la lavastoville, perché se abbiamo lavandino pieno con i piatti, se la lavastoville è piena, allora probabilmente lascerai lì perché non hai il tempo o voglia, per cui rimanerà lì ancora per un po' di ore. O se magari quando vuoi cucinare, sai, il lavandino pieno, sappiamo benissimo quanto rallenta tutto quanto. Per cui appena finito di mangiare, ci dedichiamo con le due o cinque minuti e liberiamo il lavandino. Se non ti piace, lavare i piatti. Prova a capire il motivo quale è. Forse sei stanca di questi contenitori, allora fatti qua il tuo angolo, mettiti una pianta, un barattolo carino e se sei stanca di stesso profumo e che lavi i piatti, io ti consiglio questo. Ti prendi del detersivo senza profumi e ti puoi aggiungere tu le essenze che ti piaccia, tipo l'arancio, rose, quella che ti piace di più. In questo modo tu troverai più piacere a lavare i piatti. In una cucina basta avere il lavandino pulito e lucido e vi assicuro che già è molto ordinata e si vede molto molto bene. Unica cosa, quella più difficile di tutte queste abitudini, ecco, ci dedichiamo una volta al mese di lavare i filtri dalla cappa. Se noi abbiamo i filtri lavati, la cappa di conseguenza assorbe di più, così evitiamo di avere umidità in casa, odori in casa. Per cui direi questa, una volta al mese, laviamo bene tutto quanto. Anche la lavastoviglie, laviamo bene sui lati dove la lavastoviglie non si può fare autolavaggio da sola. Questa ci aiuterà dopo di non affaticare di lavare di nuovo i piatti che rimangono sporchi o che fa dei brutti odori. Anche la lavatrice, guardate, ho messo una pastiglia, quelle per le lavastoviglie. E guardate, è rimasta tutta lucida, tutta bella e anche un buon profumo fresco. Ecco, per cui una volta al mese possiamo fare una cosa così. Quando cambiamo i tappeti in bagno, lavanderia, subito a lavare quello che abbiamo sporcato. Perché per la prossima volta, se non riusciamo e dimentichiamo a lavarli, quando puliamo il bagno, avendo un tappeto sporco, allora niente, rimanerà sempre, comunque si vedrà, non bello ordinato tutto. Quando macchiamo qualcosa, eliminiamo subito. Se non hai tempo di stare lì a lavare le tue macchie, dei tovali, di tutto quanto, allora mettiamo a molo. Ecco, anche su di sugo, su tutto quanto. Per quanto riguarda queste aspirapolveri e aspiralava pavimenti da Tineco, l'ho voluto inserire in questo video perché secondo me, ecco, era proprio il posto giusto per loro, no? Per cui, come avete capito, questi aspiralava pavimenti mi sono stati mandati. Volevo parlare un attimino di loro, sono due modelli. Io vi lascerò il link comunque tutto sotto. Perché questi aspiralava pavimento da Tineco sono veramente eccezionali per avere sempre la casa pulita, ci aiuta molto. Per cui oggi sull'Amazon trovate anche 1,49 euro di cuponi e un altro 60 euro. Per cui io ho un altro codice sconto per voi che uno è da 40 euro e uno da 30 euro. Per cui voi potete risparmiare fino a 100 euro di aspirapolvere. E un altro potete risparmiare fino a 79 euro. Vi lo consiglio. Adesso vi voglio parlare un po' di loro. L'ho messo alla prova. Allora, qua ho lavato bene il bagno. E mettiamo il detersivo. Loro hanno il loro detersivo. Dopo vi spiego tutto. Comunque nel link voi troverete molto più dettagliato tutto quanto. Allora, questi qua diciamo va bene per le persone che magari ha qualche problema di salute, di schiena, per non lo so, doni incinte. O magari per chi vuole avere sempre la casa pulita. Ma vedere il mochi in giro, no? Ecco, tutta questa cosa magari vi fa l'ansia, no? Per cui ecco, questo aspirapolavapavimento è perfetto. Perché tre secondi hai lavato tutto. Non hai per la casa il mochi secchi. Che devi mettere l'acqua, versare l'acqua. Ecco, è molto molto comodo. Chi magari è tecnologico, che gli piace tanto la tecnologia, lui si collega al wifi, parla tu dal telefono e dici, chiedi se i filtri sono sporchi, se l'acqua è sporca. Lui ti dice tutto. Praticamente parla, ecco, si sta, si collega con il wifi e ha un display bellissimo. O un'altra cosa, ecco, immaginatevi che siete già vestiti per uscire e avete versato qualcosa, no? Per cui ecco, non vi vado e prendi lo mocio o qualcosa, ma hai preso lui in tre secondi e lui lava le macchie di olio, latte, uova, farina. Quando lui trova lo sporco davanti, avete visto che il display diventa rosso, no? Ha il sensor che lì è molto intelligente, ecco. Appena trova qualcosa di sporco, si riattiva la spazzola e inizia a spazzolare, a girare più veloce, più veloce, l'acqua scende di più. E la cosa bella è che l'acqua è sporca, rimane da una parte e quella pulita da un'altra parte, ok? Per cui lui si prende l'acqua pulita e dopo quella sporca rimane a sé, cioè non viene di nuovo rilavata. Poi ecco, c'ha qua la base dove viene messo in carica, questo è il bottone di wifi che si collega e invece qua lo mettiamo in carica. E vi voglio farvi vedere, c'è questo è un pulsante che lo schiacciamo e lui si fa autolavaggio da solo, i filtri, tubi e tutto quanto. Ecco, è bastato schiacciare un pulsante e lui si ha lavato da solo le spazzole, i filtri e tutto e ti rimani pulito, ecco, è pronto per un altro uso. Adesso vi dimostro come possiamo versare tutto, vedete qua il contenitore con l'acqua sporca, c'è il filtro qua davanti, spostiamo semplicemente il filtro, guardate non è complicato per niente, per cui ecco abbiamo tolto questo coperchio che sta di sopra e lì abbiamo buttato tutto, avete visto lo sporco? Perché lui incaspira, lava e anche asciuga, rimane appena appena ubbido. Invece in questo mettiamo l'acqua pulita, lo riempiamo dove c'è scritto massimo, lo vedrete dove c'è scritto massimo. Aggiungiamo un tappo piccolo di detergente, ecco qua, e lo rimettiamo, ecco la sua struttura e lui è pronto per un altro uso, ecco, veramente è molto molto facile. Cosa posso dire di questo aspiralava pavimento? Sicuramente sono dei prodotti eccezionali, sono dei prodotti che veramente valgono ad avere ognuna in casa di noi, perché alleggerisce molto molto le nostre giornate, la nostra fatica e tutto. Poi se devo dire con le mie parole l'importanza di questo aspiralava pavimento, mi viene paragonarlo con una lavastovile, cioè senza una lavastovile si può vivere, però con una lavastovile e con tutta un'altra cosa. Ecco mi viene dire la stessa cosa di questi aspiralava pavimenti, sono veramente utili, lavano bene. Nella vita c'è qualcosa che in qualche modo vi può aiutare a faticare di meno o a alleggerire le vostre giornate. Allora fate il modo che vi alleggerite le vostre giornate, fate il modo che faticate di meno, perché quando voi sarete più rilassati, più sereni, più tranquilli, le vostre giornate, la vostra famiglia sarà soltanto piena di energia positiva, questo vi lo assicuro. Il punto più importante di questo video, di queste regole, di queste abitudini, sono di creare una squadra. Soltanto insieme riuscirete a migliorare l'aspetto della vostra casa, delle vostre stanze, della vostra vita quotidiana. Per cui questo video io ti invito di farlo vedere alla vostra figlia, al vostro figlio, mariti, e ne sono certa che un messaggio gli arriverà, e questo farà sì che tutti insieme riuscirete ad avere una casa più organizzata e più pulita. Io spero molto che questo video ti sia stato utile, se è così sostenimi con un commento, con un mi piace. Adesso un bacio a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao!